Il Museo Nazionale d'Abruzzo si avvia ad una nuova stagione di vita, quella di un museo del secondo millennio. L'obiettivo primario è di rientrare nella sedia originaria del Castello Cinquecentesco dell'Aquila e aprire all'interno di esso un laboratorio di arti, definito Officina del Castello. Un grande laboratorio del fare, quindi l'Officina del Castello sarà proprio la concretizzazione degli studi che sono necessari e della revisione dello stato delle opere. Quindi anche un passo fondamentale sia per la loro cura che per la loro manutenzione, studio e scelta, perché la musealizzazione, quindi il museo del secondo millennio, prenderà lo spunto dalla grandissima collezione del Museo Nazionale degli anni Cinquanta, ma ovviamente con una nuova revisione. Il Museo d'Abruzzo, che raccoglie gli innesti culturali diversi provenienti da tutta la regione, è un investimento del Ministero della Cultura che lo ha inserito tra i 14 musei nazionali al pari della Galleria degli Uffizi, come sottolineato da Vincenzo Cerulli-Relli, membro del Consiglio di Amministrazione e Rappresentanza del Governo. Adesso il nostro obiettivo è riaprire il castello, questo è il vero obiettivo. Riaprire il castello al più presto, almeno una prima parte, e quindi riportare una parte importante delle opere al castello, riaprire la visita del mammut, famoso mammut del Mediterraneo, unico al mondo, a cui tengono moltissimo gli aquilani, i bambini vogliono andare a fare le visite, come è giusto. Io ho buttato là, nel corso dell'intervista, a Natale, e vorrei sottolineare a Natale, però ovviamente questo dipende da vari fattori amministrativi, farò la mia parte nel sollecitare anche a livello di Ministro, che mi ha voluto nominare in questa veste, il massimo impegno del Ministero, credo che sia un obbligo che lo Stato deve assumere nei confronti delle popolazioni abruzzesi. Grazie.